ok e ne ho visti un paio anche qui 1 2 per arma mezzo un altro fumetto che non conosce praticamente crisi ormai è uscito da diversi anni fa però secondo noi almeno secondo me non so cosa dici Alex il masterpiece della Rumiko Takashi quello che un po' è rimasto nei cuori a tutti allora qui ancora ristampe Berserk 23 24 collection nera lo mettiamo vicino da Goblin Slayer che più o meno sono fantasy e assai violenti tutti e due e poi abbiamo Nana e Kaoru nuovo numero 6 ormai esce esce a nastro anche questo ha avuto un buon successo ricordiamo che abbastanza spinto cioè senza esagerare nel senso non è un entai però esplora un po' il feticismo e il bondage in una in una love story perché poi alla fine una storia d'amore è comunque un po' atipica fairy tale numero 59 novità della settimana anche lui la versione liscia diciamo quella base classica classica con la copertina marroncina ricordiamo che c'è anche poi la versione bianca dr stone il numero 2 anche questo molto atteso ne abbiamo parlato un paio di puntate fa e kiba style ricordiamo nostra trasmissione radiofonica appunto tutti martedì sera dalle 22 in diretta su radiovertigo 1 con il disegno di boici quindi recuperatevi la replica della puntata se volete saperne di più ristampone anche qua attenzione torna che nel guerriero amici il numero 1 si stanno ristampando il grido del cuore questo sottotitolo mi suona abbastanza star però comunque perché nel guerriero ragazzi se non l'avete mai letto assolutamente non avete scuse disegno sempre al top per quanto siano passati diversi anni perché è un fumetto degli anni 80 e vabbè un mito intramontabile poi abbiamo ghost in la locanda di una e direi che il numero 7 sembrava un 1 ma invece è un 7 ecco qua anche qui diciamo non si lesina in in belle figliole foto cioè foto scusate vignette abbastanza provocanti ma comunque si tratta di un fumetto comico anche qui ne abbiamo altre tre numeri ecco di qua ho il numero 2 di goblin slayer anche qua eccolo lo mettiamo in zona punti questa è la novità invece della settimana vediamo che compaiono gli altri personaggi quindi l'elfa che si unisce dopo alla compagnia nella prima copertina c'erano soltanto i due personaggi iniziali e qui già esatto c'è tutti i personaggi che poi formeranno il party del goblin slayer quindi questa specie di dinosauro indiano è una roba strammissima l'elfa e il nano mago anche quello abbastanza insolito ecco qua io mi sono sparato quasi tutto l'anime devo dire che abbastanza carino fatto bene quindi speriamo che il fumetto sia all'altezza adesso poi lo leggerò allora medaka box numero 15 novità della settimana anche questo sempre j pop con la sua copertina sbellucicosa abbiamo ampiamente superato anche qui la metà del ciclo narrativo di questo manga che se non sbaglio consta in 20 23 24 allora poi abbiamo golden camui numero 13 non usciva anche lui da un po anche qui disegno sempre molto bello altro manga che vi consigliamo sicuramente fateci sapere poi se volete delucidazioni magari più precise rispetto ai manga che vi facciamo vedere magari una roba che non spieghiamo tanto perché non l'abbiamo ancora letta qualche numero uno potete chiederci qualche cosa in più e io e alex prontamente lo leggeremo appena abbiamo tempo e vi raccontiamo qualcosa in più stillborn run quindi numero 9 bizzarre avventure di giojo l'ultima serie ristampata in questo grande formato come tutte le altre ristampe di giojo e terminiamo questo primo scatolone di fumetti con il numero nuovo 16 di world trigger ecco qua ok world trigger direi che lo piazziamo qui su un origami perché non è per nulla finita abbiamo ancora uno scatolone voilà affrontiamo l'ultimo scatolone pieno di spufolini natalizi questi qua ma sotto ci sono i fumetti ad esempio estraiamo questo ma questo è un bizzarre avventura di giojo diamond disunbreakable però un restock quindi lo mettiamo qua poi pandora arts 10 è un restock anche questo beh qui è duro è duro allora diamond disunbreakable ancora di 9 e 10 anche questi qua restock poi qui ci sono degli americani prendiamo gli americani vai così che purtroppo c'è questo che è pieno ma in realtà questo no non è americano ma è il nuovo numero di nani volume 2 vedete che c'è un furbissimo nano a cavallo di un cinghiale solamente alle gambine corte come abbiamo visto nell'hobbit l'ultimo film della saga di signori degli anelli che cavalcavano le capre però c'era anche il capo che cavalcava il maiale o cinghiale da guerra allora mettiamolo un attimo qua intanto qui sposto così almeno creiamo un po' di spazio spostiamo gli arretrati si sa che gli americani di solito li mettiamo qui a bordo pista ok poi qua abbiamo in ordine star wars numero 42 e lo piazziamo qui poi abbiamo deadpool il numero 3 che poi vabbè in realtà è sempre la continuazione però è praticamente il mini reboot nuovo tanto si possono anche questi qui ci stiamo e lo piazziamo qua e poi qui abbiamo ancora star wars sempre e questo cosa sarà? wonder woman eccolo qua poi abbiamo il numero nuovo del doctor who questo ve lo facciamo vedere perché è sempre molto atteso guardate il dottore con la chitarra elettrica sempre molto sottili questi volumetti però assai attesi e poi abbiamo ricche morti volume 1 quindi è un restock questo comunque ve lo facciamo vedere ricche morti è un'altra serie che sta andando veramente a bomba dovuta al successo anche sicuramente al cartone animato su netflix allora poi torniamo con restock bleach 22, 25, 21 qui tutto restock iniziamoli qui su naruto alice, alice scusate academy 22 restock che c'è la copertina un po' piegata poi abbiamo spice and wolf anche questi penso siano dei restock sì perché sono i vecchi numeri lo mettiamo qua ancora my hero academia ma tutto l'abbiamo preso tutto tutto ce l'hanno ordinato in blocco e allora ecco qua questi sono il numero 3 10 e 2 numeri a caso ancora giojo diamond is unbreakable lo mettiamo sotto qua ci sono un bel po' di restock per il natale in tanti avete scelto di regalare manga ai vostri amici numero 1 di my hero academia radiant numero 7 invece dovrebbe essere novità ok new ecco qua è il protagonista lui di radiant ok perché radiant onestamente non lo conosco quindi amici eh si basa su poteri magici sì che la si coscione sì la magia viene chiamata fantasia fantasma vabbè ah quindi sono maghi questi qua sì sì che si trasformano ok mettiamolo qui mettiamo qui il nostro radiant aspetta che faccio un change qua perché sennò rama copre tutti i fumetti e procediamo procediamo con pandora arts ancora c'è un po' di numeri sono tutti tutti restock poi bleach 23 qui abbiamo un volume della serie osamu tezuka mv il numero 2 è arrivato è arrivato eccolo qui ricordiamo nuova sempre da jpop serie prestigiosa sono tutti vecchi capolavori usiamo tezzo chiaramente il disegno è abbastanza datato è quello di quegli anni e comunque ciò non toglie che siano assolutamente consigliati da leggere poi qui c'è roba imbustata e si tratta di dylan dog nuovo numero con carte cosa c'è si i tarocchi i fantastici tarocchi dell'incubo di dylan dog che tra l'altro sono anche molto belli ho visto qualcuno che ne aveva postati una foto e nelle prossime in regalo i primi 20 tarocchi dell'incubo e il catalogo Sergio Bonelli ok quindi venite a prendere da noi dylan dog e avrete la prima parte dei fantastici tarocchi dell'incubo e forse siamo quasi alla fine ragazzi c'è un qualcosa di imbustato pensavo peggio pensavo andassimo più lunghi invece invece si abbiamo finito e c'erano tanti tanti restock per il natale allora intanto impigliamo qua le robe spostiamo di qua un po' di di arretrati ok e andiamo a vedere di cosa si tratta qui c'è un cartonato non ho la più pallida idea di cosa sia ma andiamo a scoprirlo assieme e si tratta niente po' di meno che di brindil i cacciatori di ombre da salda press questo fumetto fantasy in questa cioè in questa livrea cartonata molto bello dal disegno molto particolare anche anche questo ci è stato richiesto perché purtroppo le copie sono pochissime quelle disponibili poi ci ritornerà sicuramente però questa è la sua prima uscita vedete disegno molto particolare quasi francese mi verrebbe da dire vediamo chi sono gli autori no Federico Bermode e infatti Federico Bertolucci Federico Bermode e Federico Bertolucci quindi una produzione italo-francese si vedeva molto dallo stile del disegno andiamo un po' a vedere di cosa si parla visto che ci interessa solo affrontando le tue paure scoprirai chi sei Brindill ha perso la memoria potrebbe rimanere al sicuro nel villaggio che l'ha accolta ma il richiamo della verità è troppo forte non sa se è una strega o una fata non conosce l'origine dei suoi misteriosi poteri sa soltanto che per capire chi è davvero dove affrontare il suo destino i cacciatori di ombre la prima parte di Brindill è un'opera di formazione fantasy creata da due dei maggiori talenti del fumetto europeo Federico Bermode e Federico Bertolucci Love vabbè Peace and Love anche a voi allora ok allora abbiamo finito direi quello che volevo fare magari aprire un pochettino anche questo è tutto no è tutto Bleach poi qui c'è Naruto Spice and Wolf facciamo un po' così così vi facciamo vedere anche no lì è tutto mono tematico a parte Goblin Slayer mettiamo un po' così di lato ok molto bene anche io pensavo fosse più duro invece siamo arrivati alla fine speriamo che anche questo video vi sia piaciuto andiamo a esaminare un po' le novità più attese io ci metterei sicuramente Goblin Slayer che è una serie che ultimamente va per la maggiore il numero 2 di Dr. Stone che è piaciuto molto a chi ha letto appunto il primo numero Brindill sicuramente grande novità per quanto riguarda il fumetto europeo e e poi che altro vabbè il ritorno di Tu sei Deadpool che comunque sia ce l'avete richiesto veramente veramente in tanti e poi ecco diciamo che più o meno vabbè numero 1 ristampa di Ken che non si trovava più secondo me io lo metterei tra i fumetti più attesi perché effettivamente era diventato un'impresa eroica e poi come vedete restock di tutte le serie più famose e quelle più vendute anche qui da noi da Kibastop benissimo noi vi salutiamo un saluto da Matteo e da Alex mi raccomando mettete like al video se non lo avete già fatto quando ve l'ho detto nella prima parte iscrivetevi al nostro canale YouTube rimanete sempre con noi seguite anche gli altri social come Instagram quindi potete seguirci anche lì mettiamo tutte le foto che vedete anche sulla pagina Facebook alla quale vi esortiamo a mettere il like sito internet www.kibastop.it e venite a trovarci in negozio vi aspettiamo qui da Kibastop a piazza Giacomo Matteotti 28 ad Alessandria per questo video è tutto noi vi diamo l'appuntamento con il prossimo video saremo già più sotto Natale quindi potrebbe essere più natalizio il video magari ci inventiamo qualcosa ci vediamo ciao ciao a kibastop a kibastop a kibastop a kibastop fermata obbligatoria per tutti gli appassionati di fumetti collezionismo giochi di società e cultura giapponese a kibastop piazza Giacomo Matteotti 28 Alessandria a kibastop seguiteci su Facebook Youtube e www.akibastop.it www.akibastop.it Alessandria 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 Grazie a tutti.